Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Bolton Allora quest'oggi andremo avanti con la quinta stagione Sicuramente andremo ad affrontare queste due partite contro Crystal Palace e Brentford E poi spero che nel mezzo possa esserci molto calcio a mercato Perché come al solito abbiamo sempre bisogno di vendere Come al solito la lista è sempre questa qui Abbiamo purtroppo sempre tra virgolette il caso Dembélé Che è impossibile da togliere dal mercato appunto Non si può rinnovare il contratto E poi raga come al solito abbiamo questi giovani che sono tantissimi Che bisognerebbe vendere In più vorrei provare a vendere Antist Per provare a fare un grande colpo in attacco Ma prima di incominciare a giocare come al solito vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità Detto ciò possiamo andare subito in campo Ho visto anche una bellissima cosa Dembélé è diventato anche un 85 Cioè questo sta continuando anche a crescere Però purtroppo sono costretto a venderlo Comunque raga a parte tutto Formazione dei titolarissimi Praticamente la stessa squadra che ha battuto nella scorsa puntata Il Brighton 4 a 1 all'esordio Adesso speriamo di riuscire a fare un'altra bella figura Anche contro il Crystal Palace Anche se effettivamente l'anno scorso il Crystal Palace È stata una squadra che sicuramente Ha lottato per le posizioni alte Infatti se non ricordo male L'anno scorso è arrivata tipo ottava o settima in classifica Però non dovrebbe essere riuscita a qualificarsi per l'Europa League Perché appunto ci siamo noi, Arsenal e Tottenham Comunque raga a parte tutto, a parte tutti questi discorsi inutili Andiamo in campo per affrontare questo 4-4-2 Occhio palla dentro qui per il Crystal Palace Che riesce a sbloccare questa partita con una rovesciata di Wilson Veramente un gol molto particolare e strano Non credevo che riuscissero a finalizzare Comunque riguardiamo il replay per capirci qualcosina in più Allora qui palla dentro in aria Palla alzata in questo modo E poi rovesciata incredibile con Van de Vult Che non riesce ad anticipare Comunque c'era il nostro Michael Hollis mi sembra E appunto il portiere Van de Vult Ma è riuscito a prenderla lui, peccato Occhio pari in avanti, Ricky Jones può correre Ricky Jones va in porta Ricky, va in porta Ricky Jones è riuscito ad infilarla anche questa volta Ormai ogni tiro che fa il gol è veramente un centro avanti con i fiocchi 1-1 per il nostro Bolton Ha pareggiato Ricky Jones su un assist mi sembra di Dembélé Che appunto l'ha fatto partire in velocità E' arrivato fino in aria Stava arrivando anche la copertura del difensore avversario Però Ricky Jones è più forte di tutto e di tutti Occhio che possiamo andare Ogli buffo c'è un po' di spazio Se mi serve qualcuno che scatti, eccolo sempre Ricky Jones Che può andare? Beh Ricky, Ricky Jones è in aria Ci riprovo come prima e ci riesce ancora 2-1 per il nostro Bolton Partita ribaltata dal solito strepitoso e incredibile Ricky Jones Che però viene sempre servito benissimo dai suoi compagni di squadra In questo caso ottimo corridoio di Ocli Buff Che appunto l'ha messa, tra virgolette, in avanti Ricky Jones che è partito e col destro non ha sbagliato La conclusione importa Occhio ancora Michael Olis a cercare sempre Ricky Jones Occhio che può riprovarci per la terza volta Ricky Jones questa volta va dentro da Dembele E qui si salve Crystal Palace per miracolo praticamente Occhio però che adesso arriva un calcio d'angolo per il Crystal Palace Cioè vere tu che la mette dentro Bravo Fossumensama il pallone rimane lì Wilson ancora lui, bravissimo Collins senza fallo Fortunatamente possiamo ripartire però Ripartire in velocità con Collins non mi sembra il massimo Però può andare Collins Vediamo un po' nessuno riesce a fermarlo Ancora Collins è arrivato sul fondo Prova a mettere la forte tesa dentro Guadagna un calcio d'angolo Grandissimo cost-to-cost di Collins Andiamo un po', palla dentro di Kudus A cercare Fossumensama La tocco la palla di Ricky Jones Parata sulla linea di Mitchell O comunque intervento di Mitchell Sulla linea di porta Possiamo ancora riprovarci Sempre dentro Madonna Avevo vista bene qui per Baker, peccato E ok raga termina anche il primo tempo 2-1 all'intervallo per il nostro Borton Che dopo il gol subito ha reagito veramente alla grande Occhio Clibuff subito pallone in avanti A cercare di embele Vedi che c'è un po' di spazio per Ricky Jones Ottimo il pallone Ancora Ricky Jones Va col destro E sono tre Tripletta di Ricky Jones Con un missile Con il suo destro Ormai non ha più due piedi Ha due cannoni praticamente Al posto dei piedi Il nostro Ricky Jones Comunque Tripletta del nostro numero 9 Che anche quest'anno Parte veramente a bomba Speriamo che non subisca un altro infortunio Come la scorsa stagione Perché potrebbe essere veramente Un peccato per la sua carriera Lui secondo me Se continua a crescere Se non succede qualcosa di strano Può arrivare anche Oltre l'85 Ma anche di più Comunque raga Tripletta quest'oggi Quarto gol in campionato Quindi Quattro gol in due partite Al momento Occhio siamo ancora in avanti Oakley Buff Riesce a servire Michael Ulisse Che va lì indietro da Kudus Che può sparare Sinistro deviato Kudus E sono quattro Quattro a uno Per il nostro botto Nicole Penso che con ogni probabilità Verrà attribuito a Kudus Anche se c'è stata Una deviazione Che è stata fondamentale Da parte di Anderson O di Anderson Adesso Non mi ricordo di preciso Comunque Riguardiamo qui appunto Il tocco Di Michael Ulisse Per Kudus Che va col sinistro Pallone Qui appunto Toccato da numero 25 E che si infila Ovviamente in porta Comunque si raga Il gol è attribuito a Kudus Quindi anche lui Diciamo due gol In due partite Occhio al Crystal Palace Con un po' di spazio Palla dentro Ancora per Wilson Che purtroppo Riesce a fare Doppietta Un altro gol subito E come al solito Il problema è sempre lo stesso Però Finché riusciamo a segnare tanto E a costruire E a fare un ottimo gioco Non mi lamento Comunque raga Sono arrivati anche I cambi per noi Purtroppo Ho saltato l'animazione Comunque in campo Naidam Al posto di Kudus Dentro Luis Potter Al posto Di Cholis E in campo Anche Martin Jill Al posto di Michael Ulisse Facciamo ancora Crystal Palace In aria Con Frank Che si Arriva addirittura Il 4-3 Clamorosamente Nel giro di 5 minuti Riescono a riaprire Anche la partita Purtroppo Stiamo avendo un blackout Nel finale Non capisco il perché La squadra Evidentemente Ha perso la concentrazione E qui Van de Vult Fregato Sul suo palo E in terra Purtroppo Questi tre gol Macchiano tanto La nostra partita Perché sicuramente Il punteggio Non ci sta Nel complesso Abbiamo dimostrato Di essere anche superiori A questo Crystal Palace Quest'oggi Quindi Vincere eventualmente Con un solo gol di scarto Sarebbe anche Secondo me Abbastanza ingiusto E perfetto Terra Che alla fine Finisce qua la partita Appunto Peccato Peccato per questi tre gol Subiti però Come assolutamente Importante Portare a casa I tre punti E oggi Che arriva subito Un'offerta Nathan Collins Thomas Müller Addirittura Ci offrono Ma Non so se effettivamente Si tratta di quel Thomas Müller C.O.C. 34 anni Thomas Müller L'ex Bayern Monaco Ormai è diventato Un 83 Quindi è anche Sceso di oro Perché mi sembra Che Müller Sia di base Un 85 Un 86 Può essere O sbaglio Purtroppo non gioco Adattimi e team Quindi queste cose Tendo a non sapere Comunque raga Ovviamente non accetto Questa offerta Però vado a trattare Con l'offerno Perché come sempre Se mi danno 60 milioni Potrei accettare Allora eccoci qua Andiamo a chiedere Questi 60 milioni Vediamo La squadra tedesca Che cosa ci risponde 60 milioni Rifiutano subito Va benissimo Arrivano altre due offerte Prima il West Ham Che ci chiede Cardiol Occhio E poi Fortunatamente Un'offerta per Morei Da parte del Genova Quindi sarebbe anche Interessante Mandarlo in Italia Allora per Cardiol Qua dicono Che possiamo arrivare Veramente a cifre assurde Sinceramente Non vorrei venderlo Poi alla fine Il West Ham Ci ha offerto 40 milioni Manco in realtà Il suo valore di base È di 48 milioni e mezzo Quindi questa offerta È totalmente Da rifiutare Mi dispiace Per il West Ham Però Questo è calcio E adesso tocca A Morei Adesso facciamo attenzione Appunto a non Far saltare Questa trattativa È importante cederlo Non chiediamo troppo Diciamo Cerchiamo di Mantenerci intorno Ai 6 milioni 5 milioni e mezzo E cerchiamo di Vendere Il terzino spagnolo Al Genova Allora Partiamo proprio Da 6 milioni e mezzo Vediamo Che ci rispondono A primo impatto Accettano subito Va benissimo Evidentemente Potevo chiedere anche Qualche Milioncino in più O comunque Un 500 mila euro in più Potevo chiederlo Però già vendola a questa cifra Non mi dispiace Perfetto Subito venduto Anche Morei 6 milioni e mezzo Quindi 4,7 Per le nostre casse In più arriva un'altra offerta Ancora per Gardiole E ancora Loffenheim Beh a questo punto Direi che mi sembra chiaro Che a Loffenheim Serve un difensore centrale Comunque In questo caso Vado a trattare Però vado a chiedere Appunto Cifre Molto alte Li spariamo Questi 90 milioni Ma sì Che li spariamo Vai 90 milioni Per Gardiole Vediamo che ci rispondono Sono fermi A 57 e mezzo No raga Veramente Troppo poco Non se ne fa nulla 87 e 5 Vediamo adesso Che ci rispondono 57 e mezzo Beh raga A questo punto Sinceramente Posso alzare anche 85 mila Ma O comunque abbassare 85 mila Ma La vedo una cosa Molto improvabile Che accettino Infatti Che poi vabbè Lo dico sempre 85 mila 88 mila Ovviamente 85 milioni Purtroppo Non sono abituato A trattare con queste cifre A utilizzare queste cifre Quindi Appunto Vado in difficoltà Anche se ormai Bisognerebbe abituarsi Visto che la nostra squadra Ormai è una squadra Di un livello Particolarmente alto Una squadra che Adesso punta Ad obiettivi massimi In Inghilterra E non solo Comunque Adesso abbiamo la partita Contro i Bradford Sinceramente Non vorrei cambiare nulla Intanto noto che Neto è già Sceso di uno Perfetto Comunque Sicuramente Non voglio fare Delle sostituzioni Squadra che vince Non si cambia Poi abbiamo una settimana Intera Dopo questa partita Quindi possiamo Non fare turnore Quindi andiamo in campo Contro i Bradford Che attualmente Anche ultima in classifica Diciamo ci può stare Una squadra che è appena salita Dalla championship Però allo stesso tempo Facciamo attenzione Perché queste partite Sono sempre quelle lì Più pericolose E insidiose Occhio a Bradford Buemo Bravo Collins Occhio che cade a terra Facciamo attenzione Buemo Come ha fatto ad inciampare Non l'ho capito Comunque Ancora Oc Sanen Sembra un nome di un farmaco Di una medicina Comunque Ancora Buemo Questo qui diciamo Dovrebbe essere Il talento migliore Di questa squadra Tanganga Cardiolo prova a chiudere Palla dentro Bravo Fosumenza A metterci piede Ma Il Bradford Continua ad insistere Non riusciamo Ad intercertare Questo pallone Per provare a ripartire Palla ancora Per Aruri Sulla fascia Vediamo un po' Fosumenza Non riesce a chiudere Ancora Aruri Che va in aria Il cross E alla fine Arriva il gol Del Bradford Non voglio dire nulla Però in questo caso Diciamo Sembrava Abbastanza chiaro Che dovessero segnare No? Comunque raga Non facciamoci A battere da questo gol Sono i Bradford Noi sulla carta Siamo più forti Abbiamo tutte le carte In regola Per battere Questa squadra E se abbiamo rimontato Il Crystal Palace Possiamo rimontare Anche i Bradford Occio ancora Palla dentro E arriva il raddoppio Di Oxanen Proprio questo qua Che c'è il nome Della medicina 2-0 Per i Bradford Occio che Si sta mettendo Veramente male Per noi Quest'oggi Dai raga Sinceramente La prima sconfitta Stagionale Farla contro i Bradford Non mi sembra Sicuramente il massimo Occio Possiamo andare Ma è quello lì Se vedi l'inserimento Di Cholis Che deve correre Forza Cholis Non ti fermare Cholis Vai col sinistro Palla in rete Accorciamo le distanze Alla fine Dei primi 45 minuti Che era molto importante Perché Diciamo Iniziare il secondo tempo Ancora Con due gol di scarto Poteva essere veramente Diciamo Anche più complicato Pure psicologicamente Comunque 2-1 Siamo ancora in partita Secondo gol In premier Per Cholis E ok Arriva il fischio Dell'arbitro Si fa l'intervallo Sul 2-1 Per i nostri avversari Però appunto Come appena detto Siamo ancora in partita Occio a Dembele Che può avanzare Belli il pallone dentro Ricky Jones Spero Sì è tutto buono Penso di sì Non lo so Sì è tutto buono 2-2 Diciamo Aspettato Fino all'ultimo Di Diciamo Guardare La scritta in alto Gol praticamente Fortunatamente È uscita E quindi Vuol dire Che il gol Di Ricky Jones È valido 2-2 Bene così Grandissima Incursione Da parte Di Dembele Che poi Serve il pallone Ricky Jones Sul filo del fuorigioco E col sinistro Il nostro bomber Non sbaglia Ok ragazzi Siamo riusciti a mettere Le cose a posto Però Non accontentiamoci Ovviamente Come al solito Facciamo Prima attenzione A non prendere Poi però Proviamo anche A ripartire E a far male A questa squadra Occhio Dembele Ancora un pallone lungo Bellissimo Per Ricky Jones Che può andare La prova da lì Ricky Jones Stavolta sbaglia Ma anche di brutto Occhio Possiamo andare Kudus qui Bravissimo Riesce anche a metterla dentro Per Ricky Jones Che cosa ha fatto Kudus E ovviamente Finalizza Ricky Jones 3-2 L'abbiamo ribaltata Clamoroso Il nostro Porton Che sta facendo Un inizio di stagione Veramente impressionante Incluso anche Il precampionato estivo Per il momento Non ne stiamo perdendo Manco una Comunque Perché ho detto Sta cosa Sono proprio stupido Ora Inizieremo a perdere Sicuramente Tantissime partite Infatti La prossima partita È contro il Tottenham Comunque Pensiamo prima a questa qui Pensiamo a restare concentrati Se appunto Riusciamo a giocare A continuare a giocare In questo modo Sicuramente possiamo Dar fastidio A tutte le squadre Di questa Premier Possiamo Insidiare Qualsiasi posizione Perché appunto Abbiamo visto L'anno scorso Il campionato Si è deciso Grazie a quella squadra Che nel finale Ha avuto un po' più Di Diciamo Di continuità Che Se non sbaglio Il Liverpool Il Manchester Non mi ricordo manco Figuratevi Qui Occhio Fa su Mensah Che va Liscio Canos Il destro Bravo Van de Vult No come No come rigore Raga Ma ha preso decisamente Il pallone Guardiol Non puoi concedere Un rigore Per questo fallo Riguardiamo Qui Guardiol Ma ha preso decisamente Il pallone O sbaglio Comunque Vabbè raga Buemo Batte subito Col sinistro Palla fuori Ha preso in pieno I tifosi Diciamo in curva Quindi Siamo sempre Sul 3 a 2 Qui Grazie a Buemo Comunque raga Solamente la squadra Oggi Non è stanca È abbastanza In forma Nessuno È troppo stanco Quindi Visto che già siamo Al 76 Posso anche evitare Di fare i cambi Occhio Dembele Prova un lancio Lungo Per i chi Già Non so che è più veloce Stava per anticipare tutti Ormai siamo al 90 Dovrebbe arrivare L'ultimo a fondo Del Brentford Con questi 3 minuti Di recupero Facciamo attenzione Palla lunga Fosu Mensah Riesce ad anticipare Però concede il pallone A Da Silva Ma Collins Partitone Incredibile Da parte di Collins Occhio ancora Kudus Che può scattare Ancora un assist Bellissimo Per Ricky Jones Che fa Restare immobile Il portiere E la fila in porta 4 a 2 Gol Che chiude definitivamente I giochi Bellissima ripartenza Ancora sull'asse Kudus Ricky Jones Può essere che abbiamo trovato Una nuova coppia Qui ancora un bellissimo passaggio Di Kudus Che fa veramente Dei passaggi precisissimi Io non sono così Abituato A fare tutti questi assist Così belli E precisi Solitamente i miei Non sono appunto Precisissimi Con i piedi Quindi Spesso sbagliano tutto Comunque Riusciamo in questo caso Però a metterla dentro Segna Ricky Jones Che dopo tre partite Ha già fatto sette gol E siamo in Premier League Beh direi che Ricky Jones Come al solito Allora inizialmente Ricky Jones Quando abbiamo azzato La difficoltà Sembrava non essersi Accotto di nulla Praticamente E adesso Anche diciamo Con gli aumenti Delle categorie Diciamo Dalla League 2 Fino alla Premier League Per lui È sempre la stessa cosa È già la seconda Doppietta consecutiva In campionato Tripletto ovviamente No doppietta Mi sembra che ho detto Doppietta E occhio raga Che dopo tre partite Siamo primi Indisturbati Senza appunto Nessuna squadra Che abbia I nostri stessi punti Perché infatti Abbiamo addirittura Quattro squadre Manchester Everton Astonville E Liverpool A sette punti Quindi raga Per il momento Se il campionato Finisse oggi Saremmo Campioni d'Inghilterra Però purtroppo Non è così Comunque raga Arriva un'offerta di prestito Per Franco Gamba Diciamo Per gli amici Resta sempre Franco Gamba Appunto Dallo Sheffield Che sicuramente Sarebbe un'ottima squadra Per far crescere Un talento Però in questo caso Fra Gacamba Voglio farlo crescere Per fatti mie In squadra con me Quindi Rifiuto sicuramente Questo prestito Poi io appunto Non accetto mai I prestiti Non mi vanno Tanto a genio Per quanto quest'anno Siano anche più interessanti Perché hanno messo Il diritto Per il riscatto Però A me non piace Mandare un giocatore In prestito È una cosa mia Se un giocatore Deve crescere Devo farlo crescere io Poi Effettivamente Ogni tanto Ho fatto degli acquisti Presi in prestito Però lì L'ho fatto solo Per necessità Come è stato L'anno scorso Con Nets Che però Prontamente Quest'anno Abbiamo Acquistato A titolo Definitivo Cioè comunque Abbiamo fatto Tutto il mercato Ormai siamo arrivati A 31 Non è arrivata Un'offerta Per Antist Com'è possibile Che nessuna squadra Vuole Antist Quindi anche abbastanza bene Provo a chiedere Semplicemente 4 milioni e mezzo Speriamo che accettino Eccoci qua 4 milioni e mezzo Diciamo Voglio fare un piccolo discorso Su questa questione Dei giovani Portati in prima squadra Intanto qui Accettano subito Fortunatamente Quando appunto Ho pensato Di portarli in prima squadra Per fare cassa Ho pensato Che fosse una bella idea No? Appunto Provare a vendere Tutti questi giovani Per fare parecchi soldi Però Non pensavo Che Non arrivasse Manco un'offerta Pensavo Che fosse stato Più semplice Cedere questi giovani Che Sono sulla carta Anche diciamo Dei gran talenti Quindi pensavo Che molte squadre Avrebbero voluto Acquistarli Per il momento Stanno arrivando Poche offerte Però speriamo Che col tempo Anche A mercato chiuso Riusciamo a cedere Tutti questi signorini qua Comunque Adesso Ciolis Allora innanzitutto Il giocatore Che ci offrono come scambio Un centrocampista 84 25 anni Voglio un attimo Vederlo Perché E' sempre interessante E' un piede destro Quindi non ci serve Per nulla Non ci interessa Quindi andiamo a trattare Direttamente con i club E' chiaro che Se uno vede Che si può arrivare Fino a 127 milioni E' ovvio Che va a trattare Quindi Appunto Prova a chiederne 130 Allora eccoci qua Diciamo che Se il Piemonte Galcio Qui appunto Accetta Una cifra Una cifra del genere Veramente potrei Impazzire Perché Sarebbero tantissimi Soldi Ma veramente Tanti No Non Sono interessati A questa offerta Però Ci mettono Thomas Party Più 14 milioni Questo vuol dire Che più il 6% Di clausola E' un'offerta All'incirca Sul 70 O circa O comunque 65 Proprio il suo Valore di mercato 75 Anche comunque Sicuramente Non lo valutano Abbastanza Secondo me Quindi Andiamo ancora A trattare Questa volta Faccio 125 milioni Veramente Quest'anno Con i prezzi Hanno veramente Esagerato Fortunatamente Li rifiutano subito Perché Cholis Ormai E' un protagonista Indiscusso Del nostro Bolton Allora Adesso I giorni Di Champions No Hanno torto La schermata Eccolo qua Vediamo Dove siamo Non mi Trovo Dove Eccoci qua Allora Francoforte Sparta Praga E Lucerna Allora Andiamo a vedere Nel dettaglio Il nostro Girone Di UEFA Europa League Che Dovrebbe essere Dell'anno 2025 2026 O qualcosa Del genere Comunque Appunto Il Francoforte Che fra le tre E' sicuramente La squadra Più temibile Essendo una squadra Dalla Germania Quindi Una squadra Che è storicamente Sempre in questa competizione Soprattutto negli ultimi anni E diciamo Se non ricordo male Arrivò Qualche anno fa Diciamo Del calcio vero Addirittura O ai quarti di finale O addirittura In semifinale Comunque Poi abbiamo Lo Sparta Praga E il Lucerna Che sono sicuramente Due formazioni Affrontabili Soprattutto Il Lucerna A meno sulla carta Poi è chiaro che L'Europa League Può regalare Sempre sorprese Sia in positivo Che in negativo Ovviamente Il nostro obiettivo Sarà quello Di passare il turno Diamo un rapido Sguardo Anche agli altri Gironi Tanto per mostrarvi Non voglio Leggerli Leggerli a 1 a 1 Perché altrimenti Perdiamo troppo tempo Essendo che sono tanti Questi gironi Comunque Per quanto riguarda Le altre squadre inglese Abbiamo il Tottenham Con Braga Young Boys E Astra Giurgiu Bellissimo il nome Poi vediamo I Rangers Non ci interessano La Taranta Il Monaco Il Siviglia Con il Marsiglia Fiorentina Con il Ren Ajax Sporto Leverkusen Gank Anche il Pau Che torna qui Questo qui È un girone interessante Più che per il Leverkusen Per le altre tre squadre Che possono darsi Sicuramente battaglia Comunque L'Arsenal Ecco Montpellier Stiamo a Bucharest E Rapid Vienna Quindi teoricamente Tutte e tre Le compagini inglese Potrebbero passare il turno Comunque raga Io mi fermo qua Siamo comunque Nel 2024 2025 Quindi Ho esagerato troppo Con gli anni Comunque Appunto Quinta stagione 24-25 Molto interessante Però per questa puntata La fermiamo qui Non continuiamo Inizieremo subito Nella prossima Con il Tottenham L'ultimo giorno Di calciomercato Che speriamo possa Regalarci delle sorprese E poi Penso che affronteremo Sicuramente anche Il Wolverhampton Per poi Forse affrontare Anche il Lucenna E quindi fare L'esordio In Europa League Oppure Sarà rimandato Nella prossima puntata Ancora Dipenderà sempre Dal calciomercato Cosa potrà offrirci Comunque raga Io mi fermo qua Vi metto a lasciare un like Un commento Ma soprattutto Ad iscrivervi Al canale Noi ci vediamo Al prossimo video E ciao a tutti I don't lie to these women